Va via sbattendo la porta tra le polemiche e i malumori, le congiure di palazze e di veleni. E' quella del comandante della polizia municipale Maurizio Parisi una storia strana o troppo ordinaria di poteri opposti che infatti si contrappongono di prese di posizione ultime di qualche difensore trovato giusto appunto in zona Cesarini. Parisi va via lasciando un ricordo di sé, non definibile dai suoi alternanti rapporti con la città e di cittadini. Questa è una città strana, ha spesso risposto. Se il paragone è bagheria, diciamo per fortuna diversa. Non ha brillato per spirito di insediamento e di adattamento, non ha provato a farsi amare. Ma in realtà non avrebbe dovuto farsi amare, ma solo gestire il corpo della polizia municipale già abbastanza sgangherato, lasciatogli in eredità a pezzi. Dal canto suo fa un potentissimo giacchius su una condizione nella quale si è trovato, o meglio lui dice l'hanno messo, quella dell'impossibilità di gestire ed amministrare progetti bloccati, una posizione organizzativa mai nominata e molto altro ancora che si racconta tra i corridoi di Palazzo del Carmine, che assurge il ruolo di verità come accade nella narrazione orale e altro che gli stesso racconta a tutti, ma non dinnanzi ad una telecamera. Lo vogliono fare scappare, dicono i ben informati, c'è addirittura chi parla di mobbing. Dall'altro l'amministrazione alza le braccia, rimanda al mittente tutte le accuse ed afferma che la scelta di andare via è stata presa a moto proprio. È l'ennesima brutta storia che ci troviamo a raccontare ad un anno di mandato dell'amministrazione ruolo. Da quelle che hanno riguardato la politica, la famosa Sacra Alleanza che si è trasformata in una guerra armata, e quelle di quotidiana disamministrazione, le promesse fatte non mantenute, i servizi sociali bloccati, lo sport che va a pezzi, i rapporti interrotti e la sensazione che qualsiasi cosa non scalfisca i cavalieri della tavola rotonda, che stanno perseguendo la realizzazione di un progetto che ancora non si comprende.